Omessa notifica per due dei quattro imputati e udienza aggiornata al 16 gennaio 2024. Falsa partenza dunque per il processo a carico di Mimmo Nobile, Maurizio Longo, Renato Mancini e Fabio Iervese per la rapina dall'11 luglio del 2022 al centro agroalimentare di Villanova di Cepagatti che frutta un bottino di 30.000 euro. Davanti al gruppo Fabrizio Cingolani si è accertata l'omessa notifica per Renato Mancini e Fabio Iervese con il conseguente rinvio al prossimo 16 gennaio. In base al quadro accusatorio messo in piedi dal PM Luca Sciarretta sulla base della confessione dettagliata di Mancini e Iervese questi ultimi due si occuparono della parte logistica mentre Nobile e Longo, individuati anche dalle immagini delle telecamere di sorveglianza sono ritenuti gli esecutori materiali. Si tratta di un processo particolarmente importante al di là dell'entità del bottino e della modalità caratterizzata da una violenta collutazione come guardia giurata alla quale è stata sottratta anche la pistola proprio per via di questo particolare perché quella pistola risultò essere l'arma del delitto di Walter Albi l'architetto pescarese freddato al bar del parco il 1 agosto dello stesso anno e per il quale sono sotto indagine due degli imputati della rapina all'agroalimentare nobile e lungo. Tutto rimandato dunque anno nuovo quando molto presumibilmente si andrà al patteggiamento per Mancini e Iervese e al rito abbreviato per Nobile e Longo.